Dai mari toscani alle mense scolastiche e senza bisogno dell'aiuto di capitani della pubblicità per rendersi gradito agli studenti. È il viaggio del pesce delle nostre acque che grazie a un progetto di Union Camera arrivato al terzo anno ha trovato un nuovo spazio sulle tavole dei ristoranti ma anche delle case e ora delle scuole. È un prodotto che ovviamente fa bene alla nostra salute, lo fa per le componenti che sono intrinseche al prodotto, fa bene alla nostra economia perché con questo riusciamo chiaramente a collegare la pesca dei nostri mari con tutto ciò che sta in termini di lavorazione e di consumo. Un progetto che vede anche l'impegno nel sociale con la consegna dell'invenduto alla Caritas affinché lo servano le mense. Solo a Firenze ogni giorno le nostre mense mangiano oltre 700 persone, in tutta la Toscana noi stimiamo che almeno 3.000 persone mangiano quotidianamente grazie alla rete Caritas e della Toscana e in questa logica ovviamente non potevamo non aderire a un progetto che prevede tra gli altri aspetti positivi quelli di un recupero. È soltanto che ormai il pesce dimenticato è diventato protagonista delle tavole più raffinate. Parola di Chef. Non è dimenticato, anzi oggi forse in alcuni locali stellati anche ritroviamo una serie di pesci che normalmente fino a 10 anni fa non erano proprio previsti nel menù. Lavoriamo molto su quello che può essere il recupero totale del pesce. Non ci accontentiamo solamente della polpa, non ci accontentiamo solamente del filetto bello pulito ma cerchiamo anche di recuperare quello che può essere dato dalla lisca, quello che può essere dato dalle uova quello che può essere dato da tutta una serie di lavorazioni che facciamo con il pesce in totale.